ciao allora oggi vi voglio parlare di questo siero per il viso del libro che è della linea serum vegetale ed è il siero viso rughe effetto lifting quello siero modellante rughe lifting con se riesco a trovarlo erba cristallina detta pianta della vita e italiano se trovassi l'italiano ve lo direi perché la confezione è pratica nel fatto che va aperta per le istruzioni o per l'inci o che cosa c'è dentro quindi si risparmia anche sull'ambiente perché non c'è carta allora me la son persa trattamento ammirato ed è erba cristallina detta pianta della vita ok allora intanto è un siero viso la confezione un 30 ml e viene 21 euro però è spesso in offerta in negozio oppure nelle cataloghi del libro che oppure da acquistare con gli sconti io l'acquisto sempre quello sconto allora questo siero mi ha rivoluzionato la mia il mio tratta il mio la mia routine per il trattamento viso lo applico tutte le mattine è un siero bello come posso dire non è stato siero che sembra acqua è bello cremoso si stende benissimo bello morbido sul viso basta pochissimo si stende bene ma asciuga immediatamente oltretutto ho trovato che idrata la pelle la ricompatta ma non la unge e per la mia pelle mista il siero è perfetto perché poi io vado ad applicare sempre sopra il fondotinta e quindi non vado a mettere prodotto sul prodotto sul prodotto se no ovviamente si lucida molto velocemente ho trovato grazie a questo prodotto che il siero è la mia soluzione per il giorno per la skin care routine e da allora io uso solo sieri questo è sicuramente il mio preferito quello che mi piace di più ha un profumo che se non ricordo male esatto è fresco gradevole non persiste sulla pelle si applica benissimo l'ho detto è confortevole morbido idratante per l'inverno è perfetto ma anche in primavera comunque sia non ho problemi di lucidità grazie a questo siero che oltretutto ho appena finito lo ricompro appena c'è un'offerta sicuramente perché l'ho adorato ed non posso fare a meno che uno consigliarvelo perché è un ottimo prodotto racchiude in poco prodotto da applicare sul viso un effetto idratante una texture che comunque sia va a rimpolpare davvero il viso la senti compatta certo non ha l'effetto lifting che dicono ma la senti comunque compatta quindi un effetto c'è comunque è valido io lo trovo validissimo non merita il viso e basta io questo davvero lo amo non posso fare altro che dirvi che lo amo e si lo ricompro e ve lo straconsiglio lui o altri prodotti comunque sia sempre in siero perché sono in poco prodotto c'è tanto concentrato e poi per chi ha la pelle mista o grassa e ovviamente si va a truccare dopo davvero la crema è troppo il siero per me è la soluzione migliore fatemi sapere se l'avete provato e come si trovate io come sempre spero è stata utile e se ti è piaciuto il video mettimi un like e iscriviti al canale e mi raccomando la campanella così verrai avvisato quando carico un nuovo video e alla prossima accensione ciao